Colibri Colibri nasce con un ragionamento su una tipologia molto particolare, che è quella della lampada da lettura. Si tratta di un tipo di lampade che hanno un rapporto molto forte con altri elementi di arredo, tipicamente i divani o le poltrone, cioè i luoghi dove solitamente ci raccogliamo per la lettura, in cui sostanzialmente si crea un momento intimo, molto personale. L'idea che avevo era che questa lampada dovesse essere molto discreta, da una specie di compagno silenzioso che si accostava a te in questo momento. Era una specie di immagine come quella del pappagallo sulla spalla del pirata, che guarda le stesse cose che il pirata guarda. Ho iniziato a lavorare sul disegno di una forma che potesse essere più possibile, semplice, lineare, fluida, e a mano che disegnavo veniva fuori questa forma che sembrava un po' quella della testa di un colibri. Mi interessava molto questa forma perché mi permetteva di far accordare fluidamente il diffusore con questa impugnatura, che era pensata appunto per direzionare la lampada e darle valenze diverse. Il posizionamento principale della lampada doveva essere quello a 45 gradi, cioè quello pensato per la lettura, ma mi interessava anche che potesse essere orientata verso il basso o anche puntata verso una parete. In questa posizione succedeva che l'impugnatura accogliesse perfettamente l'asta che sostiene la lampada. Disegnando questa lampada uno dei temi a cui tenevo molto era che questi movimenti si rispettassero l'uno con l'altro, cioè facessero sì che le parti, come una specie di balletto in cui i ballerini si muovono ma rispettano ognuno lo spazio fisico dell'altro, le parti di questa lampada potessero rispettarsi l'una con l'altra. Quindi è venuto naturale disegnare questa sezione AC che accoglieva il cavo senza lasciarlo sfuggire. Mentre per la base questa sezione AC diventava naturalmente in una maniera molto fluida un elemento circolare. Lo sforzo è stato quello di scegliere dei colori che si potessero adattare ad ambienti differenti. Quindi per l'asta si è scelto questo blu bianco ghiaccio. Per la testa della lampada il colore che è venuto naturale usare era appunto un effetto di ton su ton con l'asta. Però ci interessava cercare anche un colore differente per la testa e siamo passati attraverso tante prove. Siamo approdati alla fine a un verde colore intenso che dava maggiore tridimensionalità alla testa e gli dava un senso quasi di profondità. Per la progettazione dell'effetto luminoso abbiamo pensato subito di voler raggiungere una specie di fascio di luce concentrata che però fosse anche morbida e calda. Quello che cerco di fare in progetti come questo è creare un oggetto che abbia una bellezza che sembri più possibile duratura. Un'estetica basata su forme molto fluide, delicate, composte, che mi piace definire concluse. Nel senso che quando uno incontra un oggetto come questo pensa che non ci sia più niente da aggiungere e niente da levare.